Riesci a resistere alle animazioni più coccolose di tutti i tempi? E beh, guarda che non è mica scontato, lo so che tu ora dici tutto, ah sì, io c'è, ma invece poi magari ti trovi lì che non riesci a resistere, ti incoccolisci tutto e ti sciogli in un mare di miele. Può essere, io per predisporti in questa situazione di miele ho un oggetto molto coccoloso, che piacerà alle ragazze principalmente, ed è una LOL surprise. E lo so, la prima volta che ne ho ricevuta una, sono stato un po' sconcertato, cioè non mi è piaciuto tanto, tanto è vero che l'avevamo inserita nel video, tipo i regali peggiori, no? Però vi dirò la verità, cioè, la parte di unboxing, lo scartarla, è figo, perché? E a parte che lo fanno in modo proprio che tu ti prenda gusto a scartarla, ed è difficilissimo scartarla, tra l'altro. Forse è troppo difficile, non mi ricordavo fosse così difficile, porca miseria, a saperlo forse non la prendevo, sai? Aspetta un po', dai ma puoi... E che cacchio? Beh, ce la faccio, no? Non può essere così difficile, cioè, no? Dico bene? Vedi che con un po' di applicazione uno ce la fa... Oh, hai visto? Ma ce n'è ancora! È giusto! Non mi ricordavo che c'era questo lato, questo punto di vista, in questo genere di cose, però c'è una parte tratteggiata! Ferma tutto! Mamma mia! Eh, aspetta che... Abbiate pazienza, eh, lo so che ci avete da fare, ma come vi è andata la giornata? Bene, eh, mi fa piacere del resto! Ce l'abbiamo fatta, eh, forse... Forse... No, non ancora! No, e vabbè, però... Stavate dicendomi della vostra giornata? Aha! A scuola? Eh, beh, certo! Beh, ma non ne manca molto ormai di scuola, sai? Quel po' di scuola che rimane, poi si va in vacanza... Ce l'abbiamo quasi fatta, eh! Abbiate pazienza, che a me piace fare spazzatura con ste robe, perché poi... Tre chilometri di incartamento... Finito? No! Eh beh, eh beh, eh beh, certamente sembrava poco, no? Invece no, non è finito, però forse adesso riusciamo? Mamma mia, non mi dire! Sei aperta! Oh, porca miseria! Guarda, è stato quasi troppo poco che è durato! Eh, c'è un po' di carta anche dentro, scusate la SMR! Abbiate pazienza! Beh, certamente, c'era un po' qui... Allora, butterei un po' di queste cose, magari ci penso dopo, no? Ok, perfetto! Allora, abbiamo... Vediamo che cosa c'è uscito, eh! Oltre che un po' di puzza di catra... Eh, ma questa è molto bella! Sempre che non gli mettono i vestiti, è perché glieli devi mettere tu! Cioè, i capelli un po' appiccicosi, un po' strani... Chi è questa qui? Voi... Voi sapete... Ma c'è il vestito? Ok, glielo dovrei... Eccolo qui il vestito, eh! Abbi pazienza! Cioè, non è che possiamo presentarla tutta così scostumata... Come si... Aspettate, eh! Che c'ha le gambe un po' grasse! Scusa, eh! Non vorrei offendere! Non sono capace a vestire le bambole, non l'ho mai... Vabbè! Eh... Non è che è vestita proprio bene, no? Però è molto coccolosa, no? Guarda che coccolina! È molto bella! Come si chiama? Se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti! Io la metto qui! La metto seduta lì, ok? E adesso ci abbiamo ancora... Aspettate... Aspettate miseria! Quanta roba che disperdono queste cose, però! Vabbè, mettiamo qui quelli sui vestiti, sicuramente fanno comodo! Oh! Eh! Siete predisposti bene? Come al solito, se vi interessa, specialmente se, insomma, le collezionate, trovate il link in descrizione. Questa è della serie Bling Bling! Delle Pop! LOL! Pop! Pop! Ma che si chiamano? LOLs! LOL! Vabbè, quelle robe là! Se vi interessa, trovate il link in descrizione! Se lo utilizzate e mi supportate! Passiamo all'animazione! Dust Buddies! Ok? Dobbiamo anche mettere un auricolaro, secondo me qua ci potrebbe essere qualche cosa da non perdere, eh! Sentiamo! Allora, c'è già una bella musica interessante? So se la sentite, l'ho messa molto bassa! Allora, quanto pare parla di dei cumuli di polvere! Ok, beh, i cumuli di polvere tecnicamente non sono molto carini, eh! Però, mai dire mai, no? Magari hanno degli occhietti carini, se non altro! Anche le LOLs, non è che è proprio... Cioè, sono carine, eh! Per carità, però sono un po' tozze! Un pochino... Però, belle, eh! Con quella testa! Vabbè! Eh... Non vogliatemene, eh! Non è il mio genere di giocattolo! Però, però, apprezzo! 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 E... Non so bene cosa sta succedendo lì, però... Carini! Ricordate, noi non dobbiamo incarinirci, capito? Non dobbiamo dire... Ah, che carino! No! Dobbiamo resistere, proprio! Dobbiamo essere duri! Dobbiamo essere... Proprio... Severi! Ah, un aspirapolvere! Il nemico mortale! Delle polveri! Ma, quindi noi facciamo il tifo per la polvere, la zozzura? Beh, io... Nella vita privata faccio sempre il tifo per la zozzura! Non passo mai la aspirapolvere! Una cosa schifo, proprio totale! Vabbè... Ognuno ha i suoi difetti, no? No! Quello è stato... No! No! Ma qui è prova a non piangere! Vendicati! Esplodi il mondo! Vendica tutto! I tuoi amici sono stati ciucciati dall'aspirapolvere! Sono stati... Rrrrrrati tutti! Ecco, infilati! Attento che lì prendi la scossa! Non fa... Eh! Non si gioca all'elettricità! Guarda che ci muori, eh! Com'è andata? Ha staccato la... Beh, ma non è che hai risolto tanto, eh! A parte che ti sei perso la coda! Ma poi non hai risolto perché ora lei lo riattacca... E ricomincia la strage! Vedi poi com'è cattiva e severa quella lì! Non è che sia poi così carina come cosa, eh! Cioè... Non sto... No! Non ti infilare lì! Ah! Sta andando a salvare gli amici! E ci trovi la morte! Che schifo! Tutto il grumo! No! Quel grumo erano i suoi amici? No! Però ci sono i suoi amici dentro il grumo! Quello è uno? Attento che adesso si riparte tutto! Ah, sta ricomponendo l'amico! Beh, è un po' carino forse, ma io non mi incarinisco! Io sono tutto... Sono come quella che aspira! Quella non è carina! Quella è un mostro delle profondità! C'è un occhio lì! No! Aspetta, aspetta, aspetta! Non attaccare! Ricomponere! Che schifo! È tutto pieno di pulviscolo! Ok, ma lui è pulvis... Vai, vai! Che siete tutti! Scappate! Siete tutti! No, no, no! Uscite! Che vi riaspira! Vai! No! No! Ritaitiralo! Porca miseria! Sta essendo un dramma! Non so se è carino, ma è un dramma! Vai, scappate! Cosa è successo? Te ne è partite le gambe! Vai! Cosa succede? Non cammini? Cosa c'è? Cacchio c'è! Vogliono vendicarsi, mi sa! Vogliono terminare il regno di terrore dell'aspirapolo! Bravi! Da... Ah, è una guerra ora! Beh, lei c'ha anche l'arma alla mano, ovviamente! Porca miseria! Ma loro sanno usare l'aspirapolo! Mamma mia, la vendetta della zuzzaglia! Ok, l'hanno sbattuta per terra! Ma che cattiveria! L'hanno aspirata, ma come? Ma uno voleva solo pulire casa! Non mi sembra il caso! Voleva pulire casa il caso, eh? Vabbè! Comunque è carino, eh, però... Cioè, mi aspettavo più difficile! Però ne un'altra, dopo questa ne un'altra di animazione! Vediamo come va a finire, magari ci incarinisce! Alla fine! E lei è dentro lì! Pure! Cioè, oltre che l'hanno aspirata, pure è sbattuta fuori casa! Quanta crudeltà! Beh, allora, molto bella, eh! Non dico no! Molto, molto bella! Però, cioè, mi ha incarinito! E... beh, avrebbe potuto farlo di più, eh! Proviamo la seconda! Perché secondo me questa qui, invece, sarà molto più difficile resistere! Allora, prima viene l'amore! Eh, già, eh! Partiamo... Partiamo bene, eh! Allora, lui... Sono io da piccolo, probabilmente! A parte gli occhi... E quella lì è Anna Piccola! Che mi offre un ciuccio? Credo! Un ciuccio caramella! Un altro ciuccio caramella? Eh, ma lo... Mi vogliono tutti! Incredibile! Allora non sono io! Mi sa! Deve essere un altro! Quindi... Si sposa con... Però gli fa schifo! Vabbè, certamente! Quando si è piccini, piccini! Ci fa schifo il bacini! Vabbè, ehm... Vabbè, no! Quello è un po' più difficile, eh! Devo dire la verità! Però il residuo... Sono duro! Sono cattivo! Sono puzzolente! Stanno facendo il viaggio adesso, no? Molto carino! Eh, no! Molto bussa! Non carino! Bussa! Vabbè, si divertono! Se vedete, secondo me andrà a finire male! Quindi non era un ciuccio, era un... Era un anello! Ah, e lui se l'ha dato alle... Ah, ho capito adesso! Sono scemo! Cosa sta facendo? Il palloncino e il figlio qui! Stanno simulando la vita di copia! È uguale a lui! Vabbè! È molto simpatica come cosa! Non carina perché... Noi non ci incariniamo facilmente! Ci vorrebbe ben altro! Però... Molto... No? Un po'... Piuttosto! No, l'ha lasciato! Che cattivo! Si è spaventato la responsabilità, capisci? Ed è scappato! Che vergogna! E non ti meriti proprio, eh! Persona del cacchio! È lei rimasta sola col figlio! E tu sei lì! Eh? È l'anello! Eh? Vergognati! Però lui farà la scelta giusta! Io confido! Farà... Vedi? Vedi? Sta ragionando! Ha detto... Farò il pompiere! Non lo so! Ah! Vedi! La riconquista! Bra... Bravi... Vedi? È tornato! Ci ha ripensato! Bravo! Bra... Bra... Ecco! Mandagli il figlio! Eh sì! Eh! Eh! Forza! Che l'amore vince sempre! Vedi? Bello! Vabbè dai! Questa qui era più difficile resiste! Semplice! Ma molto molto quella cosa che non dobbiamo! Molto molto! Uscha! Capite? Uscha! Va bene! Per questo video direi che possiamo concludere! La mia lol sta ancora qui! Io continuo a dirvi! Che non sono male! Cioè! Non sono male! Cioè! A parte che non sono capace di vestirle! Però! Sono sicuro che se gliela porto ad Anna lì è contenta! Perché l'altra volta è stata contenta! E quindi! Boh! Magari evito di continuare a provare a vestirla! Perché finirei per romperla! Però ce l'ho fatta! Guarda che carina! Eh! Non ho detto carina! Cioè! Però è... No! Eh! Carina! Cioè! Quella roba là! Uscha! Vabbè! Per questa volta è tutto ragazzi! Se la volete trovate il link in descrizione! Lion out! Per questa volta è tutto!